Ragazzi oggi ci andiamo a costruire un mob spawner, almeno iniziamo la costruzione di questo mob spawner Siamo messi male con le risorse, ci mancano davvero tanta cobblestone e tutto il resto Dopo mille fail fatti in questo episodio, tra registrazioni che non partono, cazzate varie creeper e tutto il resto E' un episodio davvero epico, proviamo ad arrivare a 2500 piaciuti per questo video e buona visione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Questa è un'odissea, sto video mi giuro è un'odissea Perché? Inizio a registrare la webcam Non mi registra poi la webcam, non so perché è crashato qualcosa Registro il video, 5 minuti poi mi accorgo che non sto registrando con la webcam E quindi sei grande, va bene, ok così Dopodiché ricomincio, stacco tutto, ricomincio Faccio la mia bella intro, parlo un paio di minuti e mi accorgo che non stavo registrando lo schermo Vi giuro, non ce la faccio Adesso sta registrando tutto, ne sono pienamente sicuro Quindi va bene, ok stavolta si può fare Che cosa ho fatto? Rewind Allora prima di tutto anticipazione doverosa Ho ucciso e avevo iniziato il video Uccidendo un enderman che ci ha dato un grass block Io ero contentissimo di questo Ho fatto anche la mia bella clip con un sacco di battute Ero contento, stava venendo bene il video Eccolo qua il grass block Poi ho sistemato un sacco di roba nel magazzino Tra cui il carbone, il ferro, l'oro, la vislazzoli e la redstone e tutto il resto Ho messo del carbone nelle fornaci Quindi ho preso del carbone, ho preso delle fornaci e tutto il resto Potrei fare anche una roba del genere Almeno facciamo prima che dite Anche di qua lo possiamo smistare Smistiamo un po' di roba Siamo tutti tranquilli, contenti e coccolosi Uno stack e mezzo di ferro e ancora ne abbiamo Allora stavo parlando del mob spawner No ho preso un sacco di roba per costruirlo Ci proviamo, non sono tanti i blocchi Però almeno lo iniziamo ad intavolare Punto secondo che cosa vi stavo dicendo Che sto iniziando a pre-registrare i video da qui a lunedì Oggi è martedì Io sto registrando i video per lunedì Perché questo? Perché me ne vado Fado un weekend a Milano Quindi sai se siete di Milano Mi troverete sicuramente in giro Che cazzeggio tra il Duomo e tutto il resto E quindi probabilmente Cioè se pensai a vedermi a Milano Potrei essere io Perché ci sto io Esatto Vado a fare una collaborazione con i mezzo No, magari, magari, magari Va bene, basta Non divaghiamo eccessivamente Ci servono due secchi per la fonte d'acqua infinita Uno già ce l'ho Uno lo andiamo a prendere ora Questi lasciamo qua Perché attualmente non ci servono Ok, perfetto Stavo dicendo dove possiamo andare a costruire Sto mob spawner Perché deve essere un posto abbastanza vicino Ma neanche troppo Perché se no si vede il mob spawner Ed è oggettivamente brutto Che si veda un cazzo di mob spawner Non credete Esatto Allora Mi stavano venendo varie idee Vari dubbi Su dove poterlo fare Dove lo faccio Dove non lo faccio E magari qua Allora Posso anche trovarmi Trovare la mia risposta In mezzo al bosco So che in mezzo al bosco Non è proprio il massimo Per un mob spawner Però Fotte sega A noi Non ci interessano queste cose A noi basta La funzionalità Infatti non funzionerà un cazzo In mezzo al bosco Però Va bene Allora io direi di farlo qua Su un laghetto Attualmente Voglio farlo sul lago Perché sul lago Easy Non c'è una motivazione ben precisa Però Fotte sega Perché poi magari passiamo sottoterra Mandiamo la roba da un'altra parte Sai che figata che viene fuori Adami la cobblestone però Perché non voglio sprecare stone A caso Allora così Non neanche Allora lo mettiamo Questo Appari di qua Perché deve essere largo 2 Deve essere largo 2 Ok perfetto Allora nella scorsa stagione Abbiamo fatto il mob grinder Ok Perfetto Questa volta faremo il mob spawner Quel cazzo che faccio un altro grinder Ci ho messo a 20 anni A fare quel grinder Ok Quindi facciamo così Chiudiamo il tutto Bello bello Fresco fresco Carino carino Così così E in quest'altro modo Perfetto Ok Questo è quanto Questa sarà la piattaforma D'atterraggio dei nostri mob Magari se io volessi Posso togliere anche qua sotto Tanto non ci interessa particolarmente Devo farmi Un cobblestone generator Non è possibile Non mi rifiuto di fare un cobblestone generator Credo in una serie vanilla Non è assolutamente possibile Ok Perfetto Questo è quanto Dobbiamo salire di 20 e passa blocchi Quindi iniziamo la salita 24 blocchi messi Adesso rifacciamo Rifacciamo il coso intorno Carino carino Tac E sono 4 Poi fai così 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 E 1 e 2 Perfetto Ok Completati anche questi E ci siamo Adesso dobbiamo andare a proprio A costruire la parte vera e propria Che è una rotta dei coglioni clamorosa E In alternare i blocchi È anche molto più Noioso e faticoso Di quanto voi possiate immaginare Però Piano piano si fa tutto Non vi preoccupate Eh ragazzoli Quanto ci dobbiamo staccare? Allora Dato che dobbiamo fare una roba del genere Questo va fatto lungo 2 Madonna Quanto è grosso ragazzi Allora sono 1, 2, 3, 4 5 Tac 6 E 7 Attualmente Facciamo una roba del genere Lo dobbiamo fare per tutti i lati Quindi Auguri Lo so Lo so Lo so Avete pienamente ragione Gli errori si pagano E Ho lavorato un pochino Ci ho rimesso un po' di tempo Perché era Largo 1 E non largo 2 Ma va bene Lo stesso Ragazzoni Non vi preoccupate Non è niente di preoccupante Fotte sega Perché faccio ste cose? Allora questo lo levita il cazzo E questo lo levita Perfetto Ok Non che sia stato un errore così grave Però certo Un po' da fastidio Allora facciamo una cosa del genere Non l'ho contato quanti sono Però va bene Lo stesso Allora è 1 2 L'autogjump lo devo togliere Devo assolutamente togliere l'autogjump Quindi sono Non è control È tipo No control Probabilmente autogjump Off Ok Reset key Non so perché Però non ho più l'autogjump Vero Esatto Non ho più l'autogjump Che era una Possibilità di morte Non indifferente Allora facciamo una roba del genere Guardate Dobbiamo soltanto provare Se funziona Se è troppo largo Troppo Perfetto Funziona perfettamente Questo è quanto La prima fonte d'acqua L'abbiamo messa Possiamo anche togliere Per il semplice fatto Che poi dovremo fare La fonte d'acqua infinita Dobbiamo girare intorno Facendo una roba del genere Tac Così E poi andarle a mettere E fare tutto il perimetro Eccoci qua ragazzoli Completato il tutto Va bene? Ok perfetto Quindi questi saranno i punti Dove i nostri carissimi mob Verranno trasportati Via dalla corrente Questo sarà il punto Dove cadranno E si faranno molto male Moriranno E ci daranno i nostri drop Guarda è bello Che è il magazzino ragazzi È fighissimo Che il cazzo di magazzino È clamoroso Adesso dobbiamo andare A costruire Esattamente le nostre Ma io questi posso farli Perché li faccio Dall'altro Infatti Non ha senso fare sta cosa Cioè io perché ho fatto Tutto il coso bello Figo Non ha senso Cioè bisogna fare così Perché io l'ho fatto In quell'altra direzione Il senso del motivo Non lo trovo Non ce n'è forse Nemmeno un motivo Cioè devo fare così E basta Perché i cosi Devono morire male Devono essere Esatto Perfetto Va bene così Ok Abbandonare la nave Adesso ci serve Ci servono altri materiali Tra cui ci serve del legno Perché dobbiamo fare le scale Per salire Se no andare a lavorare Là sopra È diventato davvero Improbabile Difficile Ci serve anche della cobblestone Quindi adesso probabilmente Mi andrò a scavare Oh via 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 Tanto no Aspettate un attimo Dobbiamo fare A un livello Un livello Ho alzato quello Ok va bene Forse ce la possiamo fare Ci serve della cobblestone Magari uno stack Me lo vado a prendere Madonna la gente che c'è Comunque Devo andarmi a prendere Anche i cavalli Perché devo popolare sta stalla È un progetto Che stiamo tirando su Da diverso tempo E non vedo l'ora ripopolarla È bellissimo il fatto Che qua dentro Che sei a casa Sto shottando male un creeper Eccolo qua Che mi ha vista un attimo Però è morto Oggettivamente malissimo Siamo quasi di nuovo A 30 livelli Che è buono Lì c'è uno scheletro Ma me ne sbatto alquanto È carino vedere In lontananza Quei mob spawner Non è malissimo L'idea C'è Mr. Kipa Non ci pensare Minimamente Brutta stronza Ok mori male Mr. Creeper morto male Lì c'è anche il nether Vicino Oh madonna i creeper Che ci so che palle Veramente noiosi Ecco morite Un attimo Su via Fatemi contento Allora Dato che si vede Anche dettagliato È carino Secondo me Sto mob spawner Così Direi di provare A fare una cosa A parte che Non si sa che cazzo Ho fatto lì Cioè c'è un blocco In più che va Assolutamente rimosso Ed è quel Ok rimuoverò quel blocco Adesso salgo però Con la dirt Infatti mi sono portato La dirt apposta Che non che ci voglia tanto Però tipo sono Però passa a blocchi Tipo 25 blocchi In tutti i casi Ho anche preso la decisione Di costruire L'interno del mob spawner Con la dirt Per evitare appunto Di perdere tempo E roba varia Incazzate inutili Allora quello È totalmente inutile Quel blocco Non mi serve Quindi lo leviamo Esatto Ok perfetto Saliamo ancora un po' Hop Così Perfetto Ci siete ragazzi Ci siete Se siete carichi Benissimo Allora ho preso anche Uno stack Di cobblestone Ora Una cosa interessante Qual è Così E così Tac 3 per 3 Poi Questo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Ci mettiamo uno slab sopra E siamo a posto Dovremmo staccare i due E poi faremo il soffitto Quindi una roba del genere Il soffitto verrà fatto proprio qua Esatto Perché tutto questo adesso Vi spiega Zio Free Perché qui Allora così i mob possono spawnare In tutti questi slot Tranne questi Muovendosi Cadranno Faranno Cadranno qua Con l'acqua Verranno spostati E moriranno malissimo Questo è un po' Quello che andremo a fare adesso In tutto questo tempo So che Non sarà proprio facilissimo E ci vorrà un po' Però noi piano piano Lo facciamo Con la terra Recuperiamo Soprattutto spazio interessante Perché se no Davvero era problematico Parecchi lo scavano Il mob spawner E tutti i torti Non ce li hanno Adesso dobbiamo fare Una roba del genere Tipo così Ma io Per esempio no Se io questa parte Non ce la metto Sì no Ce la devo mettere per forza Perché poi diventa Problematico Un casino Va bene Ok ce la metto Promesso Faccio le cose Razionalmente Come le fanno tutti Anche se a me Come le fanno tutti Non ci piace Non ci piace Figa però No forse probabilmente C'è un motivo Per cui si mette Anche quel blocco Alla fine conviene Poi entra la luce No no Non si può fare Dobbiamo tenercelo così Doveva succedere Prima o poi Doveva succedere Ed è successo È successo ragazzi 5616 High score No Ragazzi Voglia Peccato Peccato Era tantissimi episodi Che non moriva Ma vai veramente tanti Non ero mai morto Porca miseria Porca 3 2 1 Funziona Cioè vedete che funziona Il cazzo di mob spawner Funziona bestia Ma guardate un po' voi Che sfiga ragazzi No mi dispiace un botto Che peccato Che peccato Avevamo fatto tanto Non eravamo mai morti però Vabbè ok Era arrivato il momento Di morire malissimo Vediamo com'è È figo È figo È carino È simpatico sto coso Sto mob spawner Qua Lo dobbiamo finire Certo Sto episodio comunque lo finiamo Finiamo sta parte Lo rendiamo quasi operativo Ci mancherà da fare il soffitto Perché non ho attualmente Le possibilità di farlo Mancano materiali Mancano un sacco di materiali ragazzi Dobbiamo creare farm Farm di blocchi Farm di blocchi Fatemi pensare Farm di blocchi Automati che possiamo fare È quella di cobblestone Ma col weeder Poi non so se neanche esista più No possiamo fare la farm di cobblestone Guardate un po' Che vi sto per tirare fuori Farm di cobblestone Con la cosa TNT Che è massimo Non è una cazzata E potrebbe anche essere fatta Magari la faremo Successivamente Dobbiamo trovare un canyon Però dove farla Ok va bene C'è altro No non credo Ho ripreso quasi tutto Leviamo sto blocco Che non ci serve Anche questo fa schifo Ok dovrei aver ripreso tutto Ho usato anche gli slab Per finire sto coso Intanto non ci siamo riusciti Ci manca davvero pochissimo Guardate Manca Questo Cioè questo qua Intanto questi li possiamo anche fare Perché alla fine Cioè sbatti Cioè è inutile fare una roba del genere Per piazzare qualche altro blocco E non lasciare proprio l'opera incompiutissima Ci mancano quest'altri due Che sarebbero Uno Questa distanza qua Poi c'è un'altra distanza Che è questa qui E basta poi Cioè abbiamo praticamente finito il tutto Davvero ci manca pochissimo Dobbiamo creare Tre blocchi Di spawn Ricoprire il tutto E avviare il mob spawner Allora premessa So che ci metterà un po' Il mob spawner Per avviarsi E fare tutto il resto Perché poi magari dovremmo fare Qualche altro piano E tutto il resto Cioè lo so Non è che non lo so Free lo sa Però fotte sega Dobbiamo fare una piccola modifica adesso Fare tipo così Così No ho sbagliato Ah non c'entra Sei serio Cioè due Quattro Ovviamente no Però possiamo farci Fare di meglio Fare così Tac E mi serve la fonte d'acqua infinita Almeno mettiamo anche un po' di roba Così Tac Poi ne mettiamo due qui Tanto di dirt ne ho Quanta mi pare Facciamo una roba del genere Così Ok Facciamo la fonte d'acqua infinita E iniziamo a piazzare acqua Come se non ci fosse un domani Perché tanto non dovrebbe cadere Anzi Non cadrà sicuramente Una metti qui E una metti qua Esatto A giro Perfetto E questo lo portano là Meraviglioso Torniamo a riprendere la dirt Faccio stigi Rimetto tutta l'acqua E poi ragazzuoli Per sto mob spawner Abbiamo fatto Nel prossimo episodio Ve lo faccio trovare già pronto Nel senso con tutta l'acqua presa Messa E fatte tutte le belle cose Ok Questo è quanto Mettiamola anche di qua Perfetto Almeno Davvero ce li leviamo Tutte Tutte Facciamo tutto Meraviglioso Ragazzuoli E' finita Acqua messa Tutta Così vi vedete anche il mob spawner Come funziona Qualsiasi mob Che cade in uno di questi posti Sarà soggetto Che cade Poi tra le spinte E tutto il resto Qua non ci possono passare Perché ci sarà il blocco sopra Quindi possono stare soltanto qua Cadranno E verranno trasportati qua sotto Dove c'è un blocco solido Che li attende E li farà morire malissimo Noi adesso ci buttiamo sull'acqua Anzi no Riprendiamo Il nostro pillarone Perché noi avevamo un pillarone Di Di dirt Utilizziamo quello Scendiamo E via Ragazzuoli Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale se hai già fatto Di condividere il video su Facebook E farmi lasciare le persone Vi raccomando passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram E diciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi